Le concessioni balneari in Calabria hanno numeri significativi, circa 2.000 imprese con 20.000 lavoratori. Il Governo, afferma il consigliere Pietro Molinaro, su impulso della Lega, che sull'argomento ha mantenuto sempre una linea di coerenza e dopo la pronuncia dei giudici europei, procederà concretamente a una nuova mappatura omogenea delle spiagge, che è la strada giusta. La nuova mappatura sarà fatta dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e verranno utilizzati criteri di buonsenso, un adempimento che era previsto anche dal Mille Proroghe e che chiedono insistentemente le diverse associazioni dei balneari, con le quali si apre un confronto per giungere finalmente ad un punto di equilibrio, nel rispetto delle regole europee e a tutela del valore delle imprese. Infatti, ciò che ha sempre orientato la Lega su questa vicenda, precisa Molinaro, non è un braccio di ferro con l'Unione Europea, bensì allinearsi al diritto comunitario e tutelare imprenditori e lavoratori delle strutture balneari, con procedure imparziari, trasparenti ed equilibrate. In Calabria continua, soltanto il 30% circa della costa è attualmente impegnata, con oltre il 40% concedibile. Da ciò è facile dedurre che non c'è scarsità di risorsa. La mappatura, come giusto che sia, permetterà di fare le cose che si devono fare.